Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. Ancora un incidente lungo le strade della provincia di Arezzo, uno schianto tra una bici ed un furgone nel quale è rimasto ferito un uomo di 53 anni. È successo a Soci nel primo pomeriggio, poco dopo le 15. Il ciclista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi di legge. E adesso parliamo di economia. Ieri sera sono stati consegnati nel corso di una cerimonia pubblica in Fortezza i premi Fedeltà al Lavoro e Sviluppo Economico 2023-41 alle imprese aretine premiate, tra queste anche il Centro Chirurgico Toscano. Si premia il lavoro, la resilienza, si premia anche l'innovazione, l'imprenditoria giovanile e quella femminile. Insomma si celebra il lavoro qui in Fortezza appunto alla serata di premio Fedeltà al Lavoro della Camera di Commercio di Arezzo e Siena. Premiare appunto non solo l'innovazione che ovviamente portano nel mondo e che rappresentano la capacità di internazionalizzare le proprie attività e quella ovviamente anche di tradizionalità del lavoro che ovviamente portano come dicevo tutti i giorni non è così scontato. E una volta all'anno mettere insieme il territorio con queste anche passioni, oltre che competenze, capacità, resistenza e resilienza per affrontare momenti davvero difficili, anche quelli recentissimi che abbiamo superato, come dicevo non è così scontato. E ogni anno davvero le imprese, i loro dipendenti, le loro famiglie partecipano con grande entusiasmo a questa serata, a questa iniziativa. Sono aziende che vantano in questo momento una durata notevole, oltre 20 anni di attività in interrotta che è un traguardo importante. Poi c'è tanta imprenditoria anche giovanile, femminile che è caratterizzata anche questa, l'iniziativa e innovazione di processo di prodotto. E c'è un settore proprio anche di premio dedicato alla digitalizzazione, all'industria 4.0 che ci rende particolarmente orgogliosi perché ci sono aziende importanti che si contraddistinguono anche nel panorama nazionale in questo settore. Sì, grazie a chi ha pensato di dare al Centro Chirurgico Toscano di Arezzo il premio per l'innovazione tecnologica. Effettivamente un po' di innovazione l'abbiamo fatta, cito tre aspetti. Uno, la cartella clinica completamente digitale, da noi non c'è più la carta, tutto, comprese le firme dei pazienti sui consensi informati, sono fatti sulle tavolette grafometriche come in banca. Poi la digitalizzazione comporta non solo gli aspetti interessanti della cartella clinica, ma tutto, l'ingresso in sala operatoria dei pazienti, la loro registrazione, il tempo che passano in sala operatoria, il tempo che ci mettono le persone addette a ripulire, a sanificare la sala operatoria dopo gli interventi, eccetera. L'intelligenza artificiale, cioè dei sistemi che imparano da soli. Faccio un esempio. Uno dei problemi di tutti gli ospedali del mondo sono le cadute delle persone normalmente anziane che avvengono di solito dopo un intervento chirurgico. Noi abbiamo un sistema elaborato con Saima, che è un'altra azienda di Arezzo, come molti sapranno, che avverte il paziente quando dovesse inadvertitamente, perché stordito dall'intervento, alzarsi la notte senza avere un adeguato supporto, di fermarsi. Ha parlato di intelligenza artificiale, forse proprio in sanità è uno degli impieghi più utili, piuttosto che scrivere un saggio, insomma, di fisica o di filosofia. Noi stiamo muovendo i primi passi, come del resto tutto il mondo, in questo settore quasi inesplorato. I primi passi che stiamo muovendo sono confortanti, un dato su tutti. Abbiamo visto, sono due o tre anni che utilizziamo questi sistemi nuovi, abbiamo visto un netto calo delle richieste di risarcimento danni, che per fortuna erano già poche in precedenza, e adesso sono ancora meno. Ancora economia dopo l'inizio simbolico della raccolta firme, circa un mese fa di fronte ai cancelli della FIMER, la Cisla di Arezzo prosegue il percorso di sensibilizzazione verso il tema del ruolo dei lavoratori all'interno delle aziende. Di questo si parlerà così venerdì prossimo, il 28 luglio, alle 18, alla Menchetti Point, un momento che prevede anche la partecipazione delle istituzioni politiche ed amministrative del territorio aretino. E adesso la politica. Castiglion Fiorentino è apparso un manifesto giallo con il simbolo della PD, una fissione che la sezione locale del partito ha voluto per elencare dal loro punto di vista le mancanze della gestione amministrativa della giunta Agnelli negli ultimi dieci anni. La polemica tra i diretti interessati si è così subito innescata, un segno che la campagna elettorale in vista del rinnovo del primo cittadino e del Consiglio Comunale di Castiglion Fiorentino è già accesa. Le elezioni, così come in altri 25 comuni della provincia di Arezzo, si terranno nel 2024. E adesso andiamo invece in Valtiberina, dove da questa mattina gli operai della Fipsas sono impegnati a trasferire la fauna ittica. Nei giorni successivi poi prenderanno posto macchine operai impegnati in un'operazione fondamentale per lanciare un salvagente all'abitato di Pieve Santo Stefano. Qui, infatti, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno sistemerà tre opere idrauliche ormai danneggiate e malconce. Saranno così i grandi protagonisti del piano delle attività 2023 attualmente in fase di realizzazione. Ultimato il trasloco dei pesci, la Consorzio darà via ai lavori per ripristinare alcuni gabbioni e deflettori e ricostruire poi una sfonda in profonda erosione. Torniamo ad Arezzo. Il prossimo 27 luglio, infatti, si terranno al campus universitario della Pionta le visite guidate alle strutture del campus. In programma due turni, uno alle 10 ed uno alle 11 e l'appuntamento è presso la Palazzina dell'Orologio. L'iniziativa è a cura degli studenti tutor del corso di laurea triennale di Scienze dell'Educazione e della Formazione, Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Cognitive con sede ad Arezzo. Sarà possibile chiedere informazioni sui corsi di laurea e le opportunità di studio. In Piazza Grande, invece, è tornato a splendere, dopo il restauro, il quadrante dell'Orologio Astronomico della Fraternita. Commissionato dalla Fraternita e dei laici a Felice di Salvatore Vannucci da Fossato, mastro costruttore proveniente da Fossato di Vico, dal 1552, Questo orologio astronomico che sta in cima alla torre del Palazzo di Fraternita scandisce il tempo degli aretini. Fu costruito per diversi motivi. Il primo motivo è per dimostrare il valore istituzionale, ma anche la opulenza economica della Fraternita di quel periodo, proprietaria di tanti ettari di terreno, però la Fraternita aveva uno scopo preciso, quello di rappresentare le fasi lunari. In Piazza Grande era il luogo dove la campagna portava i suoi prodotti e la città comprava, quindi la Piazza Grande era il luogo di incontro tra la campagna e la città. E che veniva qua, guardava l'orologio e vedeva le fasi lunari, che erano legati al lavoro della terra. Quindi un servizio che la Fraternita fece alla pubblica opinione della città di Arezzo. È appena partito il restauro del quadrante, finanziato anche da Confartigianato, e dovrà terminare entro il prossimo 16 di agosto. In particolare è soprattutto un intervento di tipo cromatico. il quadrante che è in rame dipinto presenta delle dorature che in parte si stanno degradando e dei colori che oramai hanno perso la cromia. L'ultimo a mettere le mani in questo prezioso meccanismo era stato a suo tempo il temperatore, uno dei pochi rimasti ancora in Italia, Fausto Casi. Temperatore vuol dire mettere a punto, temperare vuol dire mettere a punto la matita, come solito che ci insegnavano all'elementare, almeno ci dicevano in questi termini, e oggi è rimasta questa voce che se volete vi posso dare anche una chicca così, perché in Italia incarico ufficiale di temperatore sono l'unico che ha un incarico su un orologio di tutto rispetto del 1552, quindi ce ne sono 5 o 6 in tutta Italia ancora di questo arco di tempo, diciamo della seconda metà del 1500 fino ai primi del 1600, e tutti gli altri amici miei temperatori che conosco ovviamente per motivi di studi, eccetera, non hanno questi incarichi. Pensionate di confartigianato, come al solito, quando chiamati rispondono a quelle che sono le esigenze della città. La confartigianato ci ha fatto presente che c'era questa necessità, noi con il 5 per 1000 raccolto abbiamo finanziato il 5 per 1000 che arriva in confartigianato, viene ridistribuito totalmente al territorio, perché sono soldi del territorio e devono tornare al territorio. Il prossimo novembre in città, grazie ad un progetto della fondazione Arezzo Wave, sono attesi i vertici di Netflix e delle altre più importanti piattaforme, tv e streaming. Noi chiaramente siamo a mettere a disposizione il nostro territorio per stimolarli a fare chissà mai un film come ha fatto Benigni che ha vinto l'Oscar a Los Angeles per l'appunto nel 99, facendo vedere tutti gli ambienti della vita bella. Grazie al rapporto creato con la città di Burbank in America è in fase di organizzazione una tre giorni a retina per portare in città i vertici di Netflix e delle altre più importanti piattaforme tv e streaming che hanno sede proprio nella contea di Los Angeles. Un progetto fortemente voluto dalla fondazione Arezzo Wave che ha già avuto il parere favorevole dell'amministrazione comunale e ha coinvolto la fondazione Guido di Arezzo e Arezzo in Tour che si occuperà dell'incoming. L'evento è in programma dal 10 al 12 novembre. Noi faremo un incontro ufficiale con una delegazione da Los Angeles che ha al suo interno sia i rappresentanti della città di Burbank che è gemellata con il comune di Arezzo sia dei presidenti o vicepresidenti di strutture quali Netflix, Paramount, Universal, Amazon, Fox TV quindi i più grandi player nella realizzazione di video e di serie a livello di film, a livello mondiale. Quindi il nostro obiettivo è invogliare questi soggetti ad essere incuriositi dal nostro territorio pensare di poterci realizzare qualcosa e al tempo stesso la sera invece fare un festival con artisti italiani che vorremmo far vedere agli americani perché chissà mai possano entrare in America e dei due artisti invece americani che loro ci portano come festa e come momento di incontro tra Arezzo Wave e Music Expo. Questo sarebbe al Teatro Tenda l'11 e il 12 di novembre in collaborazione con la fondazione Guido d'Arezzo che è stato molto disponibile a lavorare su questo percorso. Torra uno degli eventi più divertenti dell'estate è a Retina. Nel palco allestito allo stadio comunale di Quarata sabato 29 luglio tornano i dilettanti allo sbaraglio della scorrida. La manifestazione è organizzata quest'anno in collaborazione con Indomita Quarata a Capolona Calcio. Nove concorrenti che saliranno sul palco quest'anno anche con la partecipazione straordinaria di Santino Cherubini Il Penna. L'intero evento sarà seguito e sarà visibile in diretta social sui canali di Arezzo TV e a seguire nella nostra programmazione. Ancora un altro grande evento dell'estate a Retina torna infatti tovagli a quadri per la sua 28esima edizione Gravidanzia il titolo dello spettacolo di quest'anno. Abbiamo preso quest'anno un tema universale che riguarda la società occidentale del fatto che non si facciano più figli nel nostro caso i scitti. C'è un blocco in questa pancia un blocco che ha a che fare con ragioni economiche ragioni filosofiche ragioni morali. Il tema scelto quest'anno parte da una realtà evidente il calo della natalità. Gravidanzia è così il titolo della ventotesima edizione di tovagli a quadri cena toscana con una storia da raccontare in quattro portate. Quattro portate da mangiare cibi da chilometro zero che si intrecciano con la storia e la storia delle nostre campagne anghiarese, aretine e toscane dove si è svolto per anni uno stretto contatto con le nascite attraverso delle figure storiche di levatrici e di queste e di altre questioni contemporanee racconteremo. Ad interpretare lo spettacolo di Pennacchini e Merendelli ospitato anche quest'anno al Castello dei Sorci come sempre gli abitanti della Valtiberina al loro fianco anche l'aretino Samuele Boncompagni. Il loro sguardo di Andrea e Paolo su il tema del momento dell'attualità è una cosa veramente invidiabile e soprattutto anche l'occhio che mettono che è comunque sempre anche leggero poetico quindi per me è una grande grande onore grande gioia L'edizione 2023 si svolgerà dal 10 al 19 agosto Quest'anno riproponiamo le novità introdotte nel 2021 e 2022 perciò la biglietteria avrà una doppia modalità una vendita online a partire dal 28 luglio sul sito tovagliaquadri.com e una biglietteria fisica che aprirà il primo agosto presso lo Sciorumbusatti in via Mazzini ad Andiari L'evento quest'anno sbarcherà addirittura oltreoceano con la serata finale in simultanea e la Plata in Argentina Con la stessa cena nella stessa sera in due comunità diverse quelle dei Toscani con il Circolo Toscano e le città gemellate d'Argentina e un collegamento quindi fra i due emisferi quello nord e quello sud con lo stesso menu un pezzo di Toscana andrà in diretta anche alla Plata in Argentina e Buenos Aires e quindi per noi è un orgoglio Parliamo di giostra della Zara Cino oggi si è riunita la commissione per la scelta del bozzetto dal quale sarà realizzata la lancia d'oro della 144esima edizione dedicata al centenario della fondazione dell'Arezzo Calcio presenti l'assessore comunale Marelli l'amministratore delegato dell'Arezzo Selvaggio e la detta stampa della giostra della Zara Cino Federica Guerri oltre al consigliere delegato del comune Paolo Bertini al maestro intagliatore Francesco Conti che realizzerà il trofeo in palio domenica 3 settembre il bozzetto vincitore e il suo autore saranno però svelati soltanto il prossimo 26 agosto ma tutti i bozzetti saranno comunque esposti in una mostra allestita in occasione della giostra del Saracino e della ricorrenza il 10 settembre del centenario dell'Arezzo Calcio e continuiamo a parlare di Amaranto appunto sono oltre mille gli abbonamenti in un mese dopo la fase di prelazione per gli abbonamenti della passata stagione che hanno potuto procedere all'acquisto allo stesso prezzo di un anno fa 623 rinnovi su 922 ma l'11 luglio è aperta la vendita libera una campagna che procede spedita e l'obiettivo delle 1500 tessere auspicato dalla società non è così lontano l'abbonamento di quest'anno sarà valido per 17 gare e la campagna resterà attiva fino alla vigilia della prima gara di campionato e dal calcio femminile invece arriva oggi ancora una conferma l'Arezzo Calcio Femminile comunica di aver raggiunto l'accordo con la calciatrice Maria Giulia Tuteri per il rinnovo di contratto fino al giugno 2024 Tuteri proseguirà così l'avventura in amaranto vestendo la maglia del cavallino per il quarto anno la calciatrice nel corso degli anni ha dimostrato grande duttilità tattica disimpegnandosi sia da centro campista che da difensore mettendo insieme ben 59 presenze e 13 reti per quanto riguarda il nuoto invece 10 ori 8 argenti e un bronzo per la chimera nuoto al campionato regionale giovanile estivo la manifestazione nata in scena a Livorno ha riunito i migliori nuotatori di tutta la Toscana che nel corso della stagione sono riusciti a conseguire le qualificazioni nelle diverse specialità con la società Aretina che ha schierato una numerosa squadra con ben 24 ragazzi e ragazze tra i protagonisti sono rientrati Matteo Vasarri e Gabriele Mealli che hanno conquistato ben 4 titoli regionali a testa e ancora sport ad Arezzo tornano infatti i voucher dello sport dal comune saranno 100.000 euro messi a disposizione in aiuto alle famiglie e le società sportive una somma destinata a questo capitolo di bilancio i voucher sono destinati ai bambini e ai ragazzi sino a 18 anni e giovani con disabilità invece fino ai 26 anni con una riserva a loro favore del 10% delle risorse stanziate a ogni beneficiario saranno erogati 150 euro per le famiglie l'unico criterio da rispettare oltre alla residenza ovviamente nel comune di Arezzo è la presentazione di un'attestazione ISE valida per l'anno 2022 non superiore ai 20.000 euro questa per stasera era l'ultima notizia vi ringrazio per l'attenzione arrivederci in rispettare Grazie.